...un po' il tiro, le prese, e anche di altre cose. Se non devo avermi sentito, non so se siete... Sì, va a dire, solo una cosa, lavoriamo in modo sereno, cioè non eliminiamoci, cerchiamo di mettersi a disposizione, cioè se siamo giudocca, quindi avrà un lavoro in pieni che sa fare meglio rispetto al lavoro a terra, dico io, eh, e avrò davanti una persona che magari lavora su a terra, mi metto a disposizione, ecco, insomma, il verbo oggi è quello di mettersi a disposizione, quello è fondamentale, ok? Diciamo un saluto, cerchiamo di fare un po' lente. Lei! Ok? Ok, partiamo. Non è mia abitudine, ma è un risparmio di cosa, ho fatto il supporto, anche perché ho un'ora di tempo, e di solito io vi riduco... Vai, vai, ti tengo dopo. Ti tengo dopo. Ok, quindi, mi chiamo... Suddenly, l'altra giorno con nell'arcaro... Allora, però devo dire questa volta... Allora... Brian, stavo come parte... Five, 一, quarto. Ho... Vor... Grazie a tutti.